milinkovic gratis alla juve la prossima estate ecco com'è possibile la juventus sogna milinkovic savici il serbo potrebbe approdare in bianco nero in estate ecco come un contratto in scadenza nel 2024 un rinnovo che non arriva e un sogno in casa juventus che non è mai tramontato un sogno chiamato sergei milinkovic savici che potrebbe concretizzarsi la prossima estate tanti sono i fattori da considerare in merito ad un possibile approdo del centrocampista serbo a torino in primis la situazione contrattuale con il contratto del giocatore che terminerà nel 2024 segnali di rinnovo con la lazio non sembrano esserci quindi milinkovic si appresta ad entrare nel suo ultimo anno di contratto con i capitolini una situazione che potrebbe portare ad una cessione visto che i bianco celesti rischierebbero di perderlo a zero a 28 anni il centrocampista potrebbe lasciare la lazio per un club più ambizioso e l'ipotesi di un trasferimento a torino a letta il serbo che in bianco nero ritroverebbe i compagni di nazionale costic e blauvic certo molto potrebbe dipendere da quella che sarà la classifica finale del campionato con la juventus alle prese con la penalizzazione e la lazio in piena corsa per la champions league nonostante questo però la juve avrebbe anche le possibilità di provare a soddisfare le richieste bianco celesti vero che milinkovic entrerà nell'ultimo anno di contratto ma difficile che il presidente claudio lottito possa chiedere meno di 60 milioni di euro